Allora ecco le ultime novità sul calcio mercato, il servizio di Mediagoria. La nazionale italiana è vice campione del mondo. I rigori sbagliati da Baggio e Baresi e le lacrime del libero azzurro rimarranno a lungo impresse nella memoria degli sportivi. Ma immediata cresce la voglia di rituffarsi nelle vicende del campionato. Il sogno sarebbe stato incontrare nei primi turni squadre di Interregionale, ma quel dannato del computer ha preteso che si fronteggiassero solo formazioni di Serie A. E' la Juventus che cattura le maggiori attenzioni del pubblico. Il passaggio di consegne tra l'avvocato Agnelli e suo fratello Umberto ha rivoluzionato la società bianconera. Nasce la triade. Roberto Bettega è il vicepresidente, Antonio Giraudo è il nuovo amministratore delegato, mentre a Luciano Moggi viene affidato il ruolo di direttore sportivo e la squadra viene profondamente rinnovata. Ma io per carattere mi piace partire con le luci spente e senza clamori. Anche l'Inter svolta. I nerazzurri puntano su Pagliuca, pagato 15 miliardi, e salutano due bandiere, Zenga e Ferri, che si trasferiscono alla Sampdoria. Pochi comunque i colpi di mercato in una stagione dove si segnalano una serie di stranieri tutti da verificare. Il Genoa si assicura a costo zero il giapponese Miura, la Fiorentina per la difesa punta sul brasiliano Marzio Santos, mentre un Napoli sempre più in crisi chiede al colombiano Rinconne di risollevarne le sorti. Continua intanto l'escalation della Lazio di Cragnotti, che nomina presidente Dino Zoffe e affida la panchina a Zeman. Mi auguro che si riesce a riempire lo stadio, che si riesce a far venire la gente al campo, che si riesce a far seguire la Lazio. Le amichevoli, sempre più prestigiose, e la Supercoppa italiana, ancora una volta vinta dal Milan, fanno da preludio al campionato, che vede molti giovani ai nastri di partenza, tra cui Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Si parte il 4 settembre e ci sarà una novità regolamentare che si preannuncia rivoluzionaria. La vittoria, d'ora in poi, vale tre punti. Se siamo qua è perché noi abbiamo fiducia, dobbiamo avere fiducia nel futuro. Dobbiamo garantire a quelli che chiamano il calcio che siamo pronti per il prossimo campionato. E siamo pronti. La Juventus volta pagina e riparte da Marcello Lippi, che tanto bene ha fatto con il Napoli. Arrivano a Torino Ciro Ferrara, Fusi e Paolo Sosa. I bianconeri diventano un rullo compressore, col tridente Dialli-Baggio-Ravanelli. E poi, nelle retrovie, scalpita un giovane, Alessandro Del Piero. Il Milan, esaltato dalla Coppa dei Campioni, ha lasciato pressoché immutato l'organico, ma è pur sempre il dominatore delle ultime tre stagioni. La Lazio con Zeman è sempre più spettacolare e sempre più protagonista. Con l'attacco Casiraghi-Boxic-Signori, i numeri giusti li ha proprio tutti. Sempre più solido il Parma di Nevio Scala, con Dino Baggio e Crippa a centro campo, e Zola e Aspriglia in attacco, ormai, praticamente, è pronto a volare. La Roma animazione invece fa perno sul difensore Aldair, sul centrocampista Terna e poi su Giannini, e sulla coppia d'attacco tutta sudamericana Balbo-Fonseca. Due attaccanti che possono contare sugli inserimenti laterali di Carboni e Moriero. La Fiorentina di Ranieri, appena risalita dalla Serie B, ha un uomo dei sogni che si chiama, naturalmente, Gabriel Battistuta. Col portoghese lui costa a costruire gioco e un paio di elementi di spessore, come Robbiati e Di Mauro, intende recuperare il tempo perduto, ma, insomma, per Ciechi Gori ci sarà da aspettare ancora un po'. Sempre frizzante, infine, la provincia, col Bari di Tovalieri, che prova un po' a fare il guastafeste, col Padova del chitarrista-calciatore americano Alexi Lalas, e con il Torino, di Abedipele, l'ultimo talento approdato nel nostro campionato. Il pool sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio, minuto per minuto. A Parma si gioca il quinto minuto del secondo tempo, invariata la situazione, il Parma conduce per una reta zero, ha segnato Fernando Couto al ventesimo minuto. A voi Firenze. Si gioca da tre minuti all'Artemio Franchi, nella Fiorentina è sempre in vantaggio per 1-0 contro il Cagliari, linea barico. Qui a Bari, siamo al terzo minuto, 18 secondi, Bari 0, Lazio 1, linea roca. Quarto minuto all'Olimpico, Roma 1, Foggia 0, il gol è nel primo tempo di Totti. Terzo gol della Sampdoria, grande azione di Melli, cross al centro, velo di Lombardo per Platt, gran destro e palla in rete. Quando siamo giunti al settimo minuto, Sampdoria 3, Padova 0, linea... Allo studio. Aggiornamento da Napoli, Napoli-Reggiana. Quattro minuti nella ripresa, 0-0 al San Paolo, tra Reggiana e Napoli. E riprendiamo con la scaletta normale da Brescia. 0-0 tra Brescia e Juventus, linea Torino. Allo strato delle Alpi si gioca da 11 minuti nel corso della ripresa, risultato invariato, sempre l'Inter in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo segno al 42esimo del primo tempo da Ruben Sosa. La linea va a Parma. A Parma il 14esimo e attacca ancora il Parma, Zola recupera ancora il pallone, siamo in piena area di rigore, parte il tiro di Zola, il raddoppio di Gianfranco Zola, nulla da fare per Turci. Attenzione, è Brescia che deve intervenire per segnalare il vantaggio della Juventus. Il gol dunque realizzato da Conte sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Roberto Baggio. Dunque ripetiamo, Juventus in vantaggio per 1-0 sul Brescia al decimo minuto del gioco. Attenzione, linea. Quarto gol della Sampdoria, splendida punizione dai 30 metri di Mijaelovic, quindi al 23esimo. Sampdoria 4, Padova 0, linea d'8. A Parma concludo ricondando il punteggio, Parma 2, Cremonese 0, pareggio del Foggia, pareggio del Foggia con Colivano, ventiduesimo, Roma 1, Foggia 1. Scusami a Firenze che interviene poiché c'è un calcio di rigore a favore del Cagliari per un fallo commesso dal portiere della Fiorentina Toldo su Valdez che si era smarcato. Ricorso obbligo a quella di Herrera che spiazza per un attimo il portiere, segna il pareggio per il Cagliari. Dunque il Cagliari ha parigiato 1-1 quando siamo al trentesimo. Brescia e Juventus. Siamo al trentatresimo, attacca ancora il Brescia, Juventus in vantaggio per 1-0. Fiorentina di nuovo in vantaggio, Fiorentina di nuovo in vantaggio con Batistuta al trentaquattresimo e sentite l'urlo dei diposi viola, 2-1 contro il Cagliari, linea di nuovo a Riccardo Cucca. Il Brescia ha pareggiato esattamente al trentacinquesimo. Sinistro da parte del numero 7 bresciano, dunque 1-1 a Brescia tra Brescia e Juventus. Raddoppio dell'Inter con Bergkamp, micidiale ancora il contropiede. Il giocatore olandese è entrato in aree e poi con un diagonale rasoterra tra Fitto Pastine. Quindi al quarantacinquesimo il raddoppio dell'Inter, autore del gol Bergkamp. Gol di Carbone, il Napoli è in vantaggio sulla Reggiana, ripeto il golle di Carbone, il minuto è l'ottantanovesimo. Napoli 1, Reggiana 0, a poi la linea. È finita la partita di Firenze, la Fiorentina ha battuto il Cagliari per 2-1, linea provenziale. Finale anche l'Olimpico, Roma e Foggia 1-1. Finale anche a Bari, Lazio batte Bari 1-0. E intanto si è concluso il confronto di Brescia dopo tre minuti di recupero, 1-1, la linea provenziale. Napoli-Reggiana. Proprio in questo istante, mentre la palla finisce fuori, l'arbitro decreta la fine della partita. Napoli batte Reggiana 1-0, linea allo studio. Parma-Cremonese 2-0-1, Sampdoria-Padova 5-0-1, Torino-Inter 0-2-2, Milan-Geno si giocherà questa sera alle 20.30. Vediamo la prima classifica, che è abbastanza curiosa, perché presenta sette squadre a tre punti. Sampdoria-Inter, Parma-Fiorentina, Lazio-Napoli, alle quali si è aggiunto il Milan. Cosa? Fenomeno. Tribuè. Sì. D'accordo. No ragazzi, mi raccomando, eh. Cioè, siamo d'accordo, non mi fate fare figura adesso, che è la mia prima volta, vediamo di capirci. Allora, partiamo? Partiamo. Benvenuti alla 2061esima puntata della Domenica Sportiva. Parte subito in quarta il primo campionato dei tre punti, e nelle prime due giornate non si registra nessuno 0-0. Risulta imprendibile per Buonaiuto. Il 3-1 di Batistuta è un lungo sussù. Ma Tempiero è il suo gol, è un autentico gioiellino. Banskip non perdona, sinistro magico. Il primo pareggio a reti bianchi, infatti, arriva solo al terzo turno, tra Brescia e Inter. È il Parma la squadra che prende la testa fin dalla prima domenica. Nevio Scala può contare su un impianto di gioco ormai collaudato, e reso ancora più efficace dagli inserimenti di Fernando Couto in difesa e Marco Branca in attacco. Zola è più che una certezza, mentre Faustino Aspriglia ha un inizio di stagione scoppiettante. Per lui, golle Caprioli. Mi credo che è una squadra che può ancora crescere. Concediamo ancora molte palle e gol, come giustamente dicevano qui in studio. Bisogna lavorare tanto perché abbiamo delle potenzialità, e se cambiamo mentalità possiamo veramente fare meglio delle grandi e vincere questo bernetto scudetto che tutti a Parma aspettiamo. L'altra squadra che convince in questo inizio di stagione è la Roma. Ma quanto vi volete bene, tu e Fonseca? Andiamo d'accordo, andiamo alla grande, sia in campo sia fuori. Si è fatta un'amicizia molto bella, ci teniamo molto noi due, quindi ci aiutiamo a vicenda. Questo penso è una cosa molto bella. I gol di Abel Balbo fanno la differenza, e in più dal vivaio spunta un giovane sul quale Carlo Mazzone è pronto a puntare a occhi chiusi. È Francesco Totti, appena diciottenne. Una notazione particolare per Totti, che a 18 anni si conferma sempre di più giocatore maturo e per alcune circostanze decisivo, come ha visto oggi. Eh sì, sono giocatori bravi, c'è uno spirito differente, c'è molto entusiasmo. Direi c'è anche un pizzico di fortuna, che l'anno scorso non abbiamo mai avuto. Alla sesta giornata la formazione giallorossa guida da sola la classifica, complice la prima caduta del Parma, per mano di Mancini, che segna il suo centesimo gol in blu cerchiato. Mannini per Mancini, guardate come solo Mancini, tocco vellutato di destra, terzo gol per la Sampoglia. Eh sì, tutto merito mio, dice Mancini al suo pubblico. Le grandi soffrono. L'Inter è quella che sta peggio. Il successo iniziale a Torino e il ritorno al gol di Bergkamp illude il popolo nerazzurro. Ma mai più in panchina? O se capiterà fa niente? No, io voglio giocare. Immediata arriva la doccia fredda, dopo la sconfitta con la Roma e il pareggio a Brescia. Poi l'acuto con la Fiorentina, prima del pareggio nel derby d'Italia con la Juve. Noi dobbiamo essere una squadra umile, concentrata contro qualsiasi avversario, specialmente contro la Juventus. Così è stata, abbiamo fatto un'altra prova di carattere, quello che vuole il nostro allenatore. Alti e bassi per la squadra di Bianchi, che alla sesta crolla contro il Bari. Guerrero e Tovaglieri ammutoliscono San Siro e mettono in mostra un'esultanza tutta particolare. Il trenino E' quest'andazzo che c'era già negli altri anni, che è una partita buona, due no, una buona, due no. I giocatori che dovrebbero fare il salto di qualità li sto ancora aspettando, è inutile nascondersi dietro tanto. La Juventus dà l'impressione di essere ancora alla ricerca della sua identità. Marcello Lippi punta molto sul gioco offensivo e propone il tridente d'attacco con Vialli perno centrale. Segna Vialli, segna Baggio, che vuol dire? Che abbiamo fatto due gol. Le contraddittorie prestazioni della Juve non convincono Umberto Agnelli. E dopo la sconcertante sconfitta contro il Foggia la sesta giornata, anche i tifosi protestano. Il 2-0 subito in Puglia rischia di far saltare in aria i piani di rilancio della Juventus. Dobbiamo guardare quello di negativo che abbiamo fatto, ed è molto oggi. Questa è la cosa che preoccupa, l'approccio mentale con la partita. Tic-tac, toc, lenti nella manovra, prevedibili. L'approccio mentale, l'approccio con la partita che è stata sbagliata. Il Milan campioni d'Italia è irriconoscibile. Praticamente immobile sul mercato, la società rosso-nera punta tutto sulla voglia di riscatto del figliol prodigo Gullit. È ritornato quello di sempre, più sereno e più tranquillo, parlando subito del Milan e sempre del suo Milan. Lo sfogliatoio denuncia qualche crepa e la tenuta nervosa ne risente. Si spiegano così le sconfitte esterne con la Cremonese e con il Padova. Ritengo che nel primo gol c'era il fuorigioco nettissimo di maniera e credo che a questo punto ci dovrà non giocare più come fuorigioco. È festa grande a Lappiani per la prima vittoria stagionale dei Veneti. Formazione guerriera il Padova guidato da Mauro Sandreani, tecnico ancora sprovvisto di patentino. In panchina va l'Oragino Stacchini. Beppe Galderisi è il centravanti che fa coppia con Filippo Maniero, mentre un gruppo di esordienti costituisce l'ossatura della squadra. Chi stupisce veramente in questo primo scorcio di stagione è Alexi Lalas, l'americano. Saluti e ringraziamenti di Lalas a capello, mentre in tribuna i tifosi del Padova fanno festa. 24 anni, 250 milioni di ingaggio e altrettanti per il cartellino. C'è anche Buffalo Bill, Alexi Lalas, 24 anni difensore. L'americano ha fatto bene ai mondiali. Un'esperienza al mondiale in patria così positiva da far decidere al Padova guidato da Mauro Sandreani di importare in Italia il primo giocatore statunitense della storia. Alexi Lalas, il miglior cantante del campionato. USA 94 lancia in orbita un difensore disponibile ad esibirsi ogni volta che può con la chitarra. Lo fa anche alla Domenica Sportiva e di colpo sembra di essere su Domenica Inn. Ci sarà da lavorare parecchio, non è facile giocare in Italia, soprattutto per un americano. Prima di tutto dovrò farmi valere sul campo. Le prime giornate di campionato generano il sospetto che, al di là della simpatia del personaggio, l'acquisto sia del tutto ininfluente per aumentare la qualità del reparto arretrato del Padova. 9-11 che hanno esordito in Serie A, quindi lo dice lunga, su magari l'ingenuità che si possono fare. L'esordio è scioccante. A Genova contro la Sampdoria è un vero e proprio neofragio. La difesa sbanda pericolosamente e incassa cinque reti. Eppure, l'americano che ricorda il generale Custer non si perde d'animo e spiega la disfatta in termini musicali. La Sampdoria ha suonato troppo forte. Noi non siamo riusciti a tenere il ritmo. La musica non cambia nelle giornate successive. I Veneti si presentano alla sesta giornata per il confronto con il Milan con 15 reti sul gruppone. Una media imbarazzante. Peggio ancora, si comporta la difesa arrendevole e arruffona. E due soli motivi di consolazione. Il pareggio conquistato a Napoli dopo un poker di sconfitte consecutive. E la sensazione che l'Alas sia decisamente più affidabile da quando il tecnico non gli fa più fare il libero. La squadra ha giocato molto bene, con determinazione e mostrando tenuto fino alla fine della gara. I rossoneri non perdono a Padova da lontano 1960. Ma ad uno Yankee, nel corso storico, nello scudetto che esibiscono sul petto i milanisti, impedisce di sognare in grande. E difatti, al minuto 23, sebbene Mr. Capello si lamenti alquanto per una situazione che ritiene di fuori gioco, arriva il vantaggio del Padova, che spiana la strada ad un clamoroso successo per 2-0. Piatto destro di Alexi e palla che corre beffarda e lente in fondo al sacco. Roba da far godere, più di uno scatenato motivo rock. Finale dedicato all'Ottodunitense Lalas. È già un personaggio, ma lui fa il modesto. No, 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 io sono un piccolo giocatore nel mondo del calcio. I capelli posso tagliarmeli. In nazionale, Minutinovice me l'ha imposto e mi sono adeguato. Ma la barba no, io ce l'ho dai tempi del liceo. Il pullman che ci portava a scuola lo guidava a un uomo che aveva la barba fino alle ginocchia. Era grande e grosso. Era un tipo calmo. Sembrava un filosofo. Io mi ispiro a lui. La clamorosa vittoria del Padova mette ancora una volta in risalto una provincia che non smette mai di stupire e che ha nel Parma il suo rappresentante più qualificato. è la formazione giallo-blu a comandare la classifica con pieno merito e legittime ambizioni. Naturalmente feste grandi per i giocatori del Parma. Specie dopo l'affermazione nello scontro diretto con la Roma e il doppio confronto di San Siro prima col Milan, poi con l'Inter. Io ho ricevuto una lettera di un signore una lettera che ho fatto leggere a tutti i miei compagni e che ci ha colpito tantissimo. E noi appunto come squadra vorremmo dedicare la vittoria e io il gol al signor Piero Piazza il quale tempo fa ha perso il figlio che era un tifoso, un grosso tifoso del Parma. Si stacca la Roma che denuncia un evidente calo e soffre le ripetute assenze di Giuseppe Giannini. Il rientro a pieno titolo del capitano coincide con la grandissima affermazione nel derby che la Roma fa suo dopo due anni e mezzo. Io ho chiesto solamente una cosa di giocare la partita per vincere o per perdere senza mezzi termini perché solamente così potevamo reggere il confronto a Galazza. Cresce nel frattempo la Juventus che all'undicesima giornata è seconda a un punto dal Parma. Le sberle di Foggia hanno fatto bene. Lì picemente il gruppo esposa senza più ripensamenti il tridente offensivo. La Juventus è molto cinica, spietata, molto precisa. Ha giocato bene in contropiede ma non solo in contropiede. All'arresto pensano i fuoriclasse che vestono il bianconero su tutti i viali in gol contro la Cremonese con una rovesciata da Cineteca. Il grande gol di viali. Oggi sei un fenomeno, domani sei un brocco. Forse c'è qualcosa di sbagliato, in questo però sono le regole del gioco e bisogna accettarle. Giunge Platini a quota 104 nella classifica a marcatori con la maglia della Juventus. Sì, sono 104 gol. Questo mi fa piacere però non mi vuole fermare qui per cui spero e sono sicuro di superare Platini in questa. Milan e Inter invece hanno già il fiatone. Il deludente 1-1 nel derby della Madonina è lo specchio fedele di una stagione che vede il calcio milanese in secondo piano. Avete disputato un derby sicuramente, si dice così, di contenimento. Ma di contenimento fino a un certo punto perché nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre contropiedi che potrebbero anche la partita. Molto probabilmente è quello che volevamo noi. L'Inter non decolla e la classifica si fa sempre più precaria specie dopo la sconfitta di Marassi col Geno. Bianchi, un ottimo primo tempo. Questi ragazzi che crescono, questi ragazzi che talvolta sbagliano ma che onorano però questa maglia. Sì, sì, è vero. Peccato. Nel momento migliore dove non ci stava bene il pareggio abbiamo fatto il secondo errore. brutta aria anche in casa Milan. La sconfitta con la Juve mette in crisi la difesa rossonera. Lo spogliatoio si spacca e Gullit svegnato torna alla Sampdoria. Qual è il problema del Milan? una certa concretezza sotto rete. Gli manca la fiducia, ha perso tanta fiducia. Manca l'uomo goal, che questo sarebbe vambastre. Soffiano venti di crisi al Milan e l'arrivo di Alessandro Melli non rimette in carreggiata i rossoneri, staccati di 11 punti dalla vetta. Non è contento per niente? Sì, ma non è finita, eh? Nei quartieri alti della classifica viaggiano invece Lazio e Fiorentina. Il gioco di Zermann regala sempre e comunque tante emozioni ai tifosi bianco-celesti. L'attacco della Lazio corre veloce grazie anche a Rambaudi, riunitosi al gemello Signori dopo gli anni al Foggia. Boxic completa il terzetto, mentre Casiraghi, quando entra, mette a segno golli importanti. Però quello che è successo all'Università di Inter, spero, mi auguro che non succederà a noi, però nel calcio ci sta. Meglio ancora sembra fare la neopromossa fiorentina, galvanizzata dai gol di Gabriel Omar Batistuta, che segna ininterrottamente dalla prima giornata. Che viola si aggrappano all'antico, e cioè a quel Gabriel Batistuta, capo cannoniere, non per caso. Ma Batistuta non ha ancora segnato, di palle giocabili non è a molte, e allora l'argentino fa tutto da solo. I record sono fatti per essere battuti. Batistuta alla San Paolo segna per la decima volta consecutiva, come riuscì a Pascutti nella 62. Batistuta, il re leone che incanta la curva Fiesoli. Si sta lavorando molto bene, tutti hanno tantissima voglia, questo fa che quando siamo in campo diventiamo veramente amici. Batistuta, dopo 11 domeniche consecutive sempre a bersaglio, si ferma nella giornata in cui la sua fiorentina torna a far visita alla Juventus. È domenica 4 dicembre, e il popolo viola esulta per l'1-2 firmato da Bagliano e Carbone. È Bagliano che torna al gol dopo più di un anno e mezzo. La Juve sembra al tappeto, fino a quando Vialli decide di prendere per mani compagni. Ravanelli, Vialli, implacabile sullo stacco anticipando Marzio Santos. Siamo al 28esimo minuto, osservate la grinta di Gianluca Vialli. Ma c'è lo spazio per il cross? Si crea una mischia all'altezza del dischetto, la palla finisce a Vialli, implacabile, ed è il 2-2. 101esimo gol per Vialli, osservate, capopopolo. Su un match, però, sta per avventarsi Alessandro Del Piero, che a tre minuti dalla fine inventa un fantastico pallonetto in corsa. Un gioiello di rara bellezza che lascia di sasso e dalla Juve, i tre punti della vittoria. Poi osservate questa scena molto bella, tra qualche istante addirittura arriverà a far mucchio anche un anonimo tifoso che viene però prelevato subito dal servizio d'ordine dello stadio. La gioia è veramente collettiva. Gli uomini di Lippi, ancora con una gemma di Del Piero, si sbarazzano anche della Lazio all'Olimpico e scavalcano il parno. E qui la prudezza, un gioiello straordinario da parte di Del Piero per il 3-1. Un gol di magistrale Fattura, vale la pena di rivederlo. Si infila tra due avversari, mira l'angolo più lontano, 3-1. Tutto bene, ma non speravi neanche tu così tanto forse? Beh, è andata bene, adesso siamo in testa. Non dobbiamo tener conto della partita da recuperare, dobbiamo continuare il nostro cammino senza quella partita e poi una volta che la recupereremo si vedrà. Gli emiliani sono a un punto, ma già la domenica successiva tornano al comando grazie al pari casalingo dei bianconeri con il Genoa. 1-1 ragazzi, dai ragazzi, così. Pensiamo a noi però, eh! Si arriva dopo la pausa natalizia all'attesissimo confronto tra Parma e Juve. Io credo che tutto dipende dal cervello. Quando i ragazzi vanno in campo con l'entusiasmo che hanno in questo momento non c'è stanchezza fisica che possa ostacolarli. Sostengo da sempre che la stanchezza mentale è quella più difficile. E eccomi nuovamente collegati con lo studio centrale di Milano stanno per avere inizio i secondi tempi e la linea subito a Sandro Ciotti a Parma. Palla al Parma che sta per dare inizio alla ripresa. Vediamo che Ceccherini consulta a vista i suoi collaboratori Gioi Guardalini e la Città Ramiconi prima di dare il via a questa ripresa con le squadre ancora ferme sulle risultate di partenza di 0-0. e tutto ci risenteremo tra poco a linea all'Olimpico. Le squadre sono entrate su teo di gioco da pochi secondi e non è dunque ancora iniziata la ripresa. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso sullo 0-0 tra Roma e Bari. Linea Torino. Secondo minuto della ripresa con il Torino in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina. Si deve interrompere da Parma Dino Baggio ha portato in vantaggio la formazione di Scala. Si è inserito in aria dalla destra ha sferrato un destro in corsa impeccabile che ha collocato la palla nell'angolo a forza 12esimo 1-0 per il Parma a linea Foglianese. 1-1 tra Cagliari e Inter al sedicesimo minuto Parma ha effettuato il lancio verso Sousa il portoghese della Juve indirizza palla verso l'area piccola e poi termina in rete Galli ha sbagliato nettamente l'uscita anche perché è disturbato da compagni e avversari 1-1 quindi la situazione mentre si gioca il sedicesimo a Tardini. Abbiamo deciso di giocarci la partita alla pari senza nessun timore senza nessun problema senza nessun attendismo. Ravanelli Ravanelli ha portato in vantaggio la Juve uno scatto di Piali nella posizione di alla destra cross è molto calibrato verso Ravanelli che di testa ha impattato la palla mettendolo in l'angolo a mezza altezza alla destra di Giovanni Galli 2-1 quindi la situazione per la Juve al 25esimo linea che stava parlando. Balbo Balbo per la Roma esattamente alla 24esimo Roma in vantaggio sul Bari per 1-0 a tela linea al 31esimo del secondo tempo è sempre parità tra Cagliari e Internazionale 1-1 scusa Foglianese rigore per la Juve si accinge a battere Ravanelli tiro a rete Juventus 3 Parba 1 linea Roma 1-0 in favore della Roma al 40esimo mentre Roma attacca ancora aria di rigore Totti pallonetto palla a rete Fontana è superato preciso pallonetto del freddissimo Totti 2-0 all'Olimpico per la Roma sul Bari è finita la partita del delle Alpi il Torino ha battuto la Fiorentina per 1-0 ricordo il gol di Pessotto al 35esimo a tela linea e poi il finale del Tardini 3-1 per la Juve a tela linea la linea va a Roma si dà la conclusione della partita in questo preciso istante il signor Cesari dichiara concluso il confronto dunque all'Olimpico Roma batte Bari 2-0 vediamo la nuova classifica per quanto riguarda la Serie A la Juventus ha 33 punti il Parma 31 la Roma 27 la Fiorentina 26 Lazio 25 Sampdoria Lazio verrà giocato questa sera con inizio alle ore 20 e 30 la Sampdoria supera di slancio la Lazio doppietta di Plat e signori sbaglia un calcio di rigore penso che la squadra è forte siamo sesti penso settimo in classifica dobbiamo salire non dico che dobbiamo vincere lo scudetto però dobbiamo essere molto più alto in classifica rispetto agli altri anni molti problemi in meno anche tra voi sì sicuramente è veramente un buon gruppo il mister questo è stato molto poti sbilanciare molto sul mister perché è al telefono quindi adesso è stato molto bravo a creare un ambiente giusto effettivamente la nostra scuola è composta da belli ragazzi che spesso si trovano anche a cena e quindi c'è la voglia anche di stare insieme al di fuori del calcio corre veloce la Juventus e gioca bene Ravanelli non placa la sua fama di golle e ne fa due anche alla Roma la domenica successiva quella che conduce i bianconeri al traguardo di metà stagione regina d'inverno sta per calciare tiro go 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 doppietta di Ravanelli avete vinto lo scudetto no non ancora non ancora è un libro core da scrivere su Roma Juventus è un libro core è ancora nel cuore Turone o ve lo siete ormai dimenticato non ci scorda mai Turone dobbiamo ripetere questa partita per forza per forza gliene famo tre noi tre che diresti in questo momento ai tifosi della Roma un messaggio tornate a casa la Juve appare realmente la squadra più in forma Lippi fin qui ha lavorato benissimo sia sui muscoli che sul cervello il campionato però continua a regalare sorprese e nell'ultima giornata d'andata arriva la sonora sconfitta per 3 a 0 con il Cagliari che sta vivendo una stagione straordinaria abilmente guidato dal tecnico uruguayano Tabarez quale titolo verresti domani sul giornale per Cagliari Juventus di oggi? un titolo così ma diciamo il Cagliari un bel Cagliari è una Juve da dimenticare cade la Juve e ne approfitta subito il Parma che regola il Napoli per 2 a 0 e si riporta a un punto la Juventus oggi ha perso e lei è ritornata in corsa per lo Scudetto ma vede io non piango delle disgrazie oppure non sono felice per le disgrazie degli altri la Juve non ci riguarda la Juve fa un campionato per conto suo se dovessimo fare la corsa sulla Juve avremmo già perso in partenza quindi io guardo in casa mia mi dispiace per la Juve che abbia perso però quello che ho detto prima lo ripeto questo non è il mio Parma e in settimana credo che dovremmo risolvere molte cose che campionato arrivati al giro di Boa la Reggiana e il Brescia sembrano già spacciate ma preoccupa anche la situazione dell'Inter che perde a Padova e chiude il girone d'andata a 21 punti a sole 4 lunghezze dalla zona retrocessione il primo gol in Serie A arriva contro l'Inter vale 3 punti e una gioia sfrenata protagonista Massimiliano Rosa classe 70 difensore e lui a beffare la squadra di Ottavio Bianchi la lotta per la salvezza fa saltare varie panchine il Genoa l'undicesima giornata ha sostituito Scoglio con Marchioro lascio Thomas è finita ragazzi vai vicino Thomas è finita ragazzi mentre ha già dato i suoi frutti l'avvento di Sonetti che dalla quinta giornata siede sulla panchina del Torino e grazie a un super Rizzitelli è riuscito a vincere il derby della Mole credo che la squadra in questo momento ha la gioia come dicevano altri colleghi ha la gioia di giocare a calcio di non avere paura di nessuno e lo sta dimostrando partito dopo partito credo che sia la forza del Toro in questo momento 29 gennaio 1995 è la domenica che sancisce la via del girone di ritorno Juve e Parma lottano gomito a gomito per il titolo sembra una normale domenica di calcio ma non è così da Genova arrivano notizie terribili prima della partita un tifoso rosso-blu è stato accoltellato ed è morto domenica 29 gennaio a Luigi Ferraris si affrontano Genoa e Milan sono le 13 e 30 con i tifosi che stanno affluendo regolarmente allo stadio non c'è tensione i tifosi arrivano gente tranquilla serena era una bellissima giornata di sole mai avrei immaginato una cosa simile nel piazzale di fronte allo stadio un gruppo di genoani viene aggredito da 30 tifosi milanisti sono stati accerchiati da un gruppo di presunti tifosi milanisti non avevano né sciarpe né bandiere c'è stato lo scontro uno di loro Simone Barbaglia colpisce Vincenzo Spagnolo con 5 colpi Vincenzo è stato raggiunto da alcune coltellate all'addome e al torace e questo è il punto dove è stato accoltellato il giovane tifoso genuano i medici dell'ospedale San Martino hanno tentato di salvarlo non ce l'hanno fatta il referto parla di una profonda ferita alla regione pericardiale muore così un ragazzo di 24 anni da tutti conosciuto come Claudio e soprannominato Spagna il padre ha continuato a ripetere non si può morire a 24 anni per una partita la stessa disperazione degli amici di Vincenzo ragazzi con le sciarpe rosso blu per la festa dello sport e negli occhi l'incredulità di una morte assurda fuori da uno stadio di calcio la gara a regolare inizio ma sugli spalti la notizia inizia a circolare i tifosi l'abbiamo sentito chiedono la sospensione della partita hanno ammazzato un ragazzo hanno ammazzato un uomo signorini e adesso sentiamo il dialogo tra le spiglietterie e bloccare e bloccare queste danze in modo che ci sia la possibilità dopo qualche minuto di incertezza e di consultazioni frenetiche fra i dirigenti delle squadre quelli delle istituzioni e l'arbitro si decide che non è il caso di giocare credo che non era proprio opportuno continuare perché queste cose veramente ti lasciano senza parole secondo me l'unico esempio che sono riusciti a dare almeno è non giocare la partita in segno di rispetto per questa persona e ogni volta che ci sono dei problemi negli stadio bisognarebbe sospendere non far giocare le partite ma non può essere questo il modo di combattere questi delinquenti perché significa allora d'ora in avanti durante la partita di calcio può girare fuori la voce che c'è stato un morto e allora sospendono le partite allora è finita l'assassino viene individuato celermente all'alba del giorno dopo il calcio è sconvolto e decide una chiusura per lutto per la domenica successiva persino dal punto di vista industriale economico il calcio muore se non riesce a tenere a bada questa serie di cose quindi le due cose si dovrebbero unire c'è bisogno di riflettere non si può continuare così con domeniche vissute in un'atmosfera folle e criminale Vincenzo Spagnolo non è il primo morto allo stadio e purtroppo non sarà l'ultimo la partita va un po' al di là di quello che è soltanto quello che succede sul campo quindi conta molto anche il contorno e quando il contorno è così brutto così negativo è così drammatico e si trasforma in tragedia anche a noi passa la voglia di giocare è giusto smetterla e aspettare tempi migliori è semplicemente impossibile credere che uno stato che ha saputo vincere il terrorismo politico non riesca a sconfiggere i brigatisti del tifo gli squadristi in nome della loro squadra voi siete disposti a dire ai tifosi smettetela se no smettiamo noi sì beh penso proprio di sì di fronte a queste cose a queste tragedie non conta più niente tutto quello che fai viene a mancare perché a un certo punto dici non ne vale più la pena il campionato è scosso dalla notizia della morte di Vincenzo Spagnolo e si ferma per una giornata uno stop doveroso seguito domenica 12 febbraio dai messaggi letti dai capitani delle squadre che per l'occasione indossano la maglia degli avversari secondo me questi sono momenti che vanno vissuti nel modo giusto ma ricordiamoci che la gente che fa violenza è sempre pericolosissimo si riparte dunque per cancellare la ferita ma non per dimenticare la Juve va in campo sempre per vincere è un rullo compressore la formazione bianconera dalla diciannovesima alla ventiquattresima giornata mette in fila cinque vittorie e un pareggio suggestiva la vittoria contro la Sampa a Marassi grazie ad un gol di Gianluca Vialli 26 febbraio a Genova contro i blu cerchiati Gianluca sfodera muscoli e velocità ara il campo con la delicatezza di una ruspa e segna la sua rete numero 11 numero 9 testa rasata e fascia azzurra del capitano sul braccio sinistro è lui l'immagine della Juve che sta dettando leggi in campionato oltre piede Vialli Magic Ball che segna il gol del 3 a 0 e il capolavoro di Vialli che con 106 gol in campionato si proietta ridosso di un altro storico pienato Schiavio No, io non ero felice tanto per il modo in cui sono riuscito a segnare quanto perché sentivo che poteva essere un gol importante perché in quel momento anche se eravamo in superiorità numerica cominciavamo un po' a risentire della stanchezza e vedevamo che non riuscivamo a buttarla dentro nonostante ci provassimo in tutte le maniere e quindi il gol è stato un po' come una liberazione Il Parma prova a resistere la squadra di Scala vince tre partite consecutive prima di essere bloccata sul pari dalla Reggiana Sull'1-0 per loro abbiamo cambiato un po' ritmo marcia e abbiamo fatto qualcosina in più però direi che sostanzialmente è stata una buttagata da parte nostra Vanno forti gli emiliani ma la Juventus viaggia ancora più spedita tanto che alla ventiquattresima giornata sono salite a sei le lunghezze di distacco è un gruppo bello un gruppo allegro e con molta umiltà così si può andare avanti sempre e vedere anche le scudette ridotta a due la lotta scudetto il campionato offre però una serie infinita di argomenti di grandi interesse soprattutto per quel che succede all'Inter dove in atto una vera e propria rivoluzione societaria Moratti for president e lo sull'organe del giorno Pellegrini non gode più dell'appoggio dei tifosi che invece spingono forte un Moratti sul 2-0 non so cosa hanno gridato Moratti non Moratti for president e Moratti for president cosa vuole così insomma vogliono qualche cambiamento se non cambiano i risultati può darsi che qualcosa succeda le trattative sono sempre più serrate fino a quando il 18 febbraio viene annunciato ufficialmente l'acquisto della società da parte di Massimo Moratti per il bene dell'Inter l'unica soluzione è Moratti mi torneremo a vincere se arriva a Moratti lo vede forza Moratti risorge fai risorge la grande inter è la svolta dopo aver perso per 3-1 a Roma nell'ultima gara di Pellegrini presidente cambia regime e torna a fare risultato bloccando solo 0-0 la Juventus e vincendo sul difficile campo di Bari c'è tutto nell'Inter adesso occorre pensare a fare una squadra degna di questo grandissimo entusiasmo che si è creato attorno a questo cambio di guardia alla guida della società con fronte agli altri anni fa proprio schifo lei è milanista si pensa che Berlusconi si può occupare contemporaneamente del governo e della squadra no dovrebbe lasciare certo cosa dovrebbe lasciare il governo ma noi dobbiamo vivere la giornata non pensarci troppo perché da quando non ci pensiamo stiamo andando molto bene quindi dobbiamo continuare così poi vedere a marzo aprile dove arriveranno quanti sono i marzi e aprili se riprendono e vanno molto avanti e prendono i scudetti Inter rimonta così come il Milan che ritrova il filo del gioco e dei risultati grazie ai gol di Marco Simone oggi oggi credo di non aver giocato una grandissima partita però ho fatto tre gol quindi questo è lo strano del calcio gol pesanti come la tripletta al Brescia per un Milan che si riporta al terzo posto e quest'oggi tutta la squadra ha risposto in pieno e evidentemente c'è voglia e determinazione per quello che dobbiamo fare ancora in campionato troppi donne che c'è stata insieme a capello ma no a capello è un ragazzo serio dietro ai rossoneri ci sono le due romane impressione il cammino della Lazio che non conosce mezze misure Porto Lazio dopo il poker al Milan replica con il clamoroso 8 a 2 alla Fiorentina con Pierluigi Casiraghi mattatore con 4 reti lo dice il risultato oggi siamo stati veramente irresistibili quindi al di là di tante considerazioni 8 e 2 si commenta da solo si arriva così ad una 25esima giornata tutta da seguire riflettori puntati sugli anticipi Juve e Parma impegnati in Coppa UEFA giocano il primo aprile i bianconeri sono ospiti del Milan mentre gli emiliani sono attesi dalla Roma Ravanelli più vialli e la Juventus si conferma regina del campionato si conferma regina ingredienti negativi di un Milan che a San Siro comunque non vince più dal 2 ottobre Vittoria doppia perché il Parma fonda Roma per mano del solito Abel Balbo La Roma è in grandissima condizione atletica Poi oltre alla condizione atletica c'è dei giocatori che stanno giocando molto bene Stiamo facendo le scheme che vuole il mister Io direi un complesso delle cose, non soltanto una prestazione fisica Novi punti di vantaggio della Juve quando mancano dieci turni La matematica non può ancora dare risposte Ma i giochi per lo scudetto sembrano già fatti Battere fino alla fine non dà per scontato che il campionato sia già vinto dalla Juventus o dal Parma Quindi questo è perseguire comunque una vittoria o di vittoria in vittoria Poi vediamo come va a finire Lo pensano in tanti e quel che accade la giornata successiva Sembra confermare il pensiero comune La Juve perde il derby Mi girano le scatole in una maniera incredibile che noi dobbiamo regalare sempre qualcosa a questa squadra Per quale motivo? Ma per quale motivo? Non esiste Ma perde anche il Parma in casa col Milan Che saluta il ritorno al gol dopo due anni di Lentini Purtroppo paghiamo con un risultato negativo una partita in una giornata in cui anche la Juve si ferma La ventisettesima giornata dice ancora Juve Roby Baggio trascina la squadra alla vittoria sulla Reggiana Mentre il Parma fa 0-0 a Foggia e scivola a meno 11 dalla vetta Quando mancano sette giornate all'epilogo Questo Roberto Baggio può accompagnare questa squadra fino al traguardo dello scudetto Sono molto contento soprattutto per lui Perché nelle ultime partite aveva ricevuto delle critiche abbastanza pesanti Invece oggi ha fatto vedere che è sulla via del ritorno, del completo recupero fisico E ha fatto delle cose molto belle, molto importanti I colpi di scena però non sono ancora finiti E inaspettata giunge la sconfitta interna della Juve per mano del Padova No, abbiamo vinto con la Lazio, con il Mina, con l'Inter, con la Juventus Abbiamo fatto altri colpi, 11 vittorie abbiamo fatto E quindi di conseguenza credo che la squadra sta crescendo Il Parma ne approfitta, sul classa l'Inter e si porta a meno 8 Presidente, doveva succedere Una prima volta c'è sempre il presidente, però non finisce qui la sua Inter No, no, ma io trovo che sia anche giusto avere questo tipo di esperienza per me Soprattutto così imparo qualche cosa Campionato ancora vivo, che vede il successo della Lazio nel derby E in chiave salvezza l'importante vittoria della Cremonese Nello scontro diretto con il Genoa Io credo che ci deve essere uno spirito di reazione Perché altrimenti non siamo solo dei giocatori così così Siamo anche degli uomini così così Tutto questo mentre il Brescia con Adelio Moro, che ha preso il posto dell'esonerato Maifredi Con sei turni d'anticipo, retrocede in Serie B Sono quegli anni destinati, che lo sai già prima come va a finire Noi stiamo studiando la squadra per l'anno prossimo Si riprende dunque da meno 8 quando il calendario propone la 29esima giornata Il duello a distanza tra Juve e Parma è ancora una volta anticipato al sabato Nel frattempo la squadra bianconera è scossa dalla terribile notizia della morte di Andrea Fortunato Non ce l'ha fatta il giovane terzino a vincere la malattia che lo aveva colpito un anno prima È una Juve con il cuore gonfio quella che va a Firenze il 29 aprile 29 aprile 1995 La Juventus gioca sul campo di Firenze Città che non ama i colori bianconeri Ma in questa circostanza le due tifoserie sono accomunate dal dolore Per la prematura scomparsa di Andrea Fortunato Il calvario di Andrea parte dall'anno precedente Quando in primavera si riscontra un soccalo fisico Apparso ai più inspiegabile Tanto da causargli anche attriti con parte del pubblico Alla fine del maggio 1994 Gli viene diagnosticata una forma di leucemia linfoide acuta Fortunato viene trasferito all'ospedale di Perugia E sottoposto a trapianto di midollo osseo L'incubo sembra finire per il promettente terzino della Juventus Quando nella primavera successiva Un'influenza colpisce Andrea Causandogli un improvviso abbassamento delle difese immunitarie Caro Andrea Ti abbiamo voluto bene Ti porteremo sempre nel nostro cuore E tu dalla sua aiutaci a non piangere Ma a vivere il tuo ricordo con la felicità di chissà Che averti conosciuto Anche se per poco è stata una grande fortuna Nel tardo pomeriggio del 25 aprile 1995 Arriva la notizia brutale Andrea Fortunato si spegne all'età di 23 anni Speriamo che in paradiso ci sia una squadra di calcio Così che tu possa continuare Speriamo che in paradiso ci sia una squadra di calcio Così che tu possa continuare ad essere felice Correndo dietro ad un pallone Onore a te Fratello Andrea Fortunato Con queste parole Gianluca Vialli Lo saluta a nome di tutta la Juventus Il 26 aprile Giorno del suo funerale A Salerno, sua città natale Ci sono migliaia di persone Costernate nel vedere una vita così terribilmente truncata Il suo affettuoso ricordo Resta indelebile Nella memoria di tutti gli sportivi italiani Il campionato consuma un'altra tappa importante Si è giocato ieri con due avvenimenti come Juventus-Fiorentina e Parma-Brescia Che fanno continuare il duello tra le due squadre Ma c'è stato anche oggi il verdetto che riguarda la Reggiana Che retrocessa aritmeticamente in Serie B Mentre il derby tra Genoa e Sampadori ha visto la vittoria del Genoa Ci si mette la Lazio di Zeeman adesso A garantire altra suspense al campionato La Juventus cade La Juve ha giocato veramente un attimo il primo tempo Poi in un secondo Non siamo riusciti un attimino a tamponare la loro offensiva Poi piano piano siamo usciti E abbiamo sfruttato al meglio le tre occasioni che abbiamo avuto Ma anche il Parma appare un po' in riserva E viene fermato sul pareggio dal Genoa Ti ripeto, noi abbiamo il dovere e la volontà di crederci fino alla fine E' logico che diminuendo le partite diminuiscono anche le possibilità Oggi potevamo fare un grosso passo in avanti Però in fin dei conti abbiamo pur sempre guadagnato un punto sulla Juve Ed è proprio il Genoa ad ospitare la Juventus sabato 13 maggio Anticipo della 31esima giornata Ma contro i bianconeri il fortino rosso-blu regge solo per un tempo Poi la Juventus dilaga Anche se bisogna andare un po' tranquilli Però penso che questo scudetto sia quasi cucito perfettamente Vince anche il Parma con il primo gol in A del giovane Stefano Fiore E i punti rimangono sette Sicuramente è un gran passo come dicevi tu Perché non è da tutti passare da una Serie B a una finale di Coppa Europea E si arriva così al tanto atteso scontro diretto In calendario domenica 21 maggio al Delle Alpi Lippi gioca con il tridente Scala punta su Zola e Aspriglia E si affida ancora all'estro e alla freschezza di Fiore Juve-Parma è il match scudetto Ciao Zola Ciao Filipini che piace Parma Sta per aver inizio la ripresa Vi ricordiamo la situazione La Juve è in vantaggio per 2-0 Essendo passata all'undicesimo con Ravanelli Avendo raddoppiato al trentottesimo con Deschamps In entrambi le occasioni l'assist è stato di Roberto Baggio Molto bello il lancio in profondità Che ha consentito Ravanelli di scelare il gol di apertura Così come molto bello è stato il colpo di tacco Del capitano Bianconero a favore del francese Deschamps Che da distanza ravvicinata ha potuto battere Bucci Con un tiro che è terminato nell'angolo A mezz'altezza alla destra dell'estremo difensore parmigiano Siamo giunti al terzo minuto Ancora 2-0 per la Juve La situazione linea Cucchi E nulla di fatto Due opportunità però per la Sampdoria in pochi secondi Siamo sempre sullo 0-0 Dopo due minuti di gioco all'Olimpico Linea Genova Siamo già al sesto minuto della ripresa La Ferraris Il Genova è sempre in vantaggio per 1-0 Sulla foggia linea Cremona Cremonese che conduce per 2-0 Grazie ai gol spettacolari messi a segno al quindicesimo da Chiesa Con un bel rasoterra di sinistro E al ventesimo da Milanese Che è stato abilissimo a calciare al volo dal limite dell'area Con palla che si è infilata all'incrocio dei pari Juventus Parma Dialli servito ancora una volta dallo splendido Roberto Baggio Che ha indovinato un passaggio in verticale assolutamente perfetto E pertanto al ventesimo delle Alpi 3-0 per la Juve Terralini Ventitreesimo al Ferraris Genova 2 Foggia 0 Il gol il raddoppio dei rosso-blu al sedicesimo Pasticcio nella difesa del Foggia Immobile incerta su un cross dalla destra Pallone che batte sul piede di Vanskip E finisce su quello di Scurabi Quarto gol della Juve con Ravanelli Al ventiquattresimo 4-0 per la Juve Terralini Grande gol di Winter Al trentaseiesimo Lazio in vantaggio Conclusione davvero splendida da parte dell'olandese della Lazio Lazio in vantaggio sulla Sampdoria Intervengo da Cremona Pochi istanti fa ha portato a tre Leretti la cremonese autore del gol Floriancis al quarantottesimo della ripresa Cremonese 3-0 a 0 È finita la partita di Marassi Il Genoa ha battuto il Foggia per 3-0 Era una vittoria fondamentale da ottenere E' stata raggiunta Eh sì Però abbiamo ancora due partite che sono Specialmente quella di domenica è quello che decide un po' il nostro destino E nel frattempo finale anche all'Olimpico Dunque la Lazio batte la Sampdoria per 1-0 E grazie anche al risultato ottenuto dal Cagliari a San Siro Evidentemente questa sconfitta sarà molto pesante ai fini della classifica UEFA Per la Sampdoria Dobbiamo fare 6 punti basta no Inutile fare calcoli di altre cose 6 punti dobbiamo fare Che non è facile Si manca un minuto alla conclusione della partita D'accordo e allora omaggio alla signora Sino alla conclusione Sandro Ciotti per Juve Parma La nuova classifica della Serie A due giornate dalla conclusione del campionato Juventus 70 punti Campione d'Italia Ed è il 23esimo scudetto per la Juve Penso che sia il coronamento di un anno Giustamente La squadra ha fatto tanto Ha fatto bene Direi che non c'è nessuno che lo meritava di più E non ho assolutamente paura a dirlo Buonasera È il giorno del 23esimo scudetto juventino Battendo anche nettamente il Parma per 4-0 La Juventus si è aritmeticamente conquistato Il suo 23esimo titolo di campione d'Italia Più maturo come scudetto Ma è diverso Non si può fare un confronto Fare dedica è troppo facile, no? Eeeeeeeh 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 Il primo com'è? E' bellissimo È una gioia grandissima E' una gioia grandissima E' una gioia grandissima 10 a 2-0, te lo sè Come no Che ti viene da pensare? La prima cosa al fisico dell'arbitro Che hai pensato? Ma sono tante le cose Ovviamente Sono felice Per questa squadra Per i miei compagni Per chi ha lottato un anno Per arrivare fino a qua Siamo dire come un giorno Che c'è nella sua vita Nell'attacco della Juve C'è una grossa novità Che fa vincere la Vanelli Per l'ambino delta Vorrei dedicare questa vittoria A tutti i sportivi della Juventus E soprattutto Alla famiglia Fortunato Perché loro ne hanno bisogno E poi vorrei dire Una grande vittoria per l'avvocato Che non si aspettavano a Juve così forte Abbiamo dimostrato Che questa volta siamo i più forti Anche se abbiamo lottato sempre con umiltà E questa è la vittoria Di Marcello Liffi e della società Abbiamo Scala al telefono Che ti sente? Vuoi chiedere qualcosa a Scala? No, lo voglio ringraziare Delle parole che mi ha detto Subito dopo la partita E mi sembrava sincero Mi ha detto Siete stati i più forti Ve lo siete meritato Da parte di Scala Qualcosa da chiedere O da ricordare a Marcello Liffi? Io voglio solo ripetere Quello che ho detto Alla fine della partita Ero veramente sincero Lo sono anche in questo momento Noi abbiamo vinto Una Coppa che ci appaga Che ci consola E che ci rende felici Però credo che appunto Non ci siano dubbi Su questa grande vittoria Della Juventus Che è partita come dicevo prima In sordina Nessuno dava credito A questa squadra Poi via via è cresciuta E credo che alla fine I dieci punti O i dodici O i quindici Che avrà alla fine Campionato Siano meritati Ravanelli Deschamps Vialli E ancora Ravanelli Juventus batte Parma 4 a 0 E la festa per il ritorno Allo scudetto della Juventus Può avere inizio Con una secchiata Di acqua gelata Lanciata da Gianluca Vialli Al suo mister Il vero trionfatore Della stagione Allora Lippi Che caratteraccio Questa Juventus Eh sì Ha un gran carattere Questa squadra Ma non ha solo carattere Marcello Lippi Dà la sensazione Che la sua Juventus Può aprire un ciclo Perché ha preso Il suo carattere Gli insegnamenti E la mentalità Di un uomo tenace Abbiamo giocato Uno per tutti Tutto per uno E questo è lo spirito vincente Il merito soprattutto Mister Lippi Dal primo giorno Della preparazione Ha detto Che non c'erano lì Che non c'erano prime donne Dovevamo studiare tutti insieme Al Via Reggino Che in panchina Sfoga la tensione Concedendosi un sigaro Piace la consapevolezza Maturata nel corso Della stagione La sua Juventus Non era la più forte In partenza Ma io sa Per carattere Mi piace partire Con le luci spente E senza clamore A scorrere i nomi Della rosa Non la si dava Per favorita Ma si è dimostrata La migliore Perché ha fortissimamente Creduto nelle proprie potenzialità C'è inutile Che ci giriamo intorno Cerchere di fare qualcosa di diverso Di voltare pagine Di cambiare Cerchere di vincere Superando di volta In volta Problemi tattici E psicologici Infortuni Scetticismo Torricelli E Ferrara Squalificati Carrera Porrini E Arni Malconci Malippi E' abituato Alle emergenze E a ribaltare I pronostici Dalla vigilia Con il recupero pieno Di un leader Come Vialli Che sembrava Un giocatore finito E noi dovremmo Lavorare insieme Per trovare dentro Gli stimoli Perché il calcio Oggi E' talento E' fantasia Ma è soprattutto stimoli La gestione sapiente Del dualismo Tra Baggio E del Piero La valorizzazione Delle capacità tattiche Di Paolo Sosa E l'esaltazione Delle robuste qualità Operaie Di giocatori Quali Carrera Torricelli Conte Di Livio E Ravanelli E' l'attacco Della Juve C'è una grossa Novità E' Fabrizio Ravanelli E' l'ambito Della Lippi E' il primo Tecnico A capire Che l'assegnazione Di tre punti A gara Rappresenta Una novità basilare Che rivoluziona L'approccio E la gestione Della gara Sappiamo Quanto siano Difficili Queste partite In conclusione La cosa Che ha fatto Più piacere Lippi Stasera La vittoria Indubbiamente Infine Da non trascurare E' l'attitudine Al sacrificio Ottenuta Da parte di tutti Il suo 433 E' un modulo Che chiede Una disponibilità Totale Dei singoli Un dispendio Di energie fisiche Nervose Che possono esserci Solo se tutti Ne sono convinti Con questo gruppo Di giocatori Io credo Che potremmo Avere delle possibilità Alla fine del campionato Di essere soddisfatti Averci creduto Fin in fondo Non aver mai rinunciato Neanche quando Si sono verificate Le assenze Di alcuni capisaldi Titolari Ha rappresentato Il presupposto basilare Sul quale edificare La grande impresa A mio padre Salvatore Ripugnava l'idea Che potessi avere a che fare Con la Juventus Perdonami papà Gli ho detto in ginocchio Sulla tomba Ma è il mio sogno La mia ambizione Non voglio assolutamente Ferirti Ma non posso dire di no Non so se mi ha mai perdonato O se mai lo farà Di sicuro Ha visto dall'alto I frutti che ho raccolto E questo mi rincuore Al signor Bette Che al signor Moggi Non ci togliete il gioiello Per favore Non ce lo togliete È una perla È una perla Mi pare che sia un coro unanime Baggio deve restare a Juventus Fa festa il popolo bianconero E fa festa anche il Parma Che fino in fondo Ha duellato con la Juve Sono felicissimo Perché ho visto la squadra La tonica Concentrata Con la voglia di vincere Questa partita Che sembrava una partita Di inizio campionato E non di fine campionato Chiusa la pratica scudetto L'attenzione si concentra Sulla corsa Per la salvezza E per l'Europa La penultima giornata La matematica salvezza I riti tribali si consumano in fretta Il cuore di Domenico Luzzara Ideale senatore a vita del calcio grigio rosso Trasso trasmette solo tumulti di genuina felicità Da presto Da presto vi inviterò Inter Il nervosismo era palpabile Non è riuscito a prenderlo Il Padova è rimasto a terra Con la prospettiva della roulette russa Dello spareggio per la salvezza Il 10 giugno La sorte dà una mano alla formazione di Sandriani Che dopo i calci di rigore Rimane in A Il Padova può davvero guardare con fiducia al futuro Ed è tutto È questo l'ultimo verdetto di un campionato Che vede l'argentino Gabriel Batistuta Capo cannoniere con 26 riti Bene che vogliamo dire? Siamo arrivati in conclusione Che vogliamo dire Nino? Non cantate i titoli mentre passano Perché non è il karaoke E abbiamo finito Sì va bene Hanno finito Loro hanno finito Io anche perché ho una fame porca E vorrei andare a mangiare Non solo io Anche loro E quelli che sono a casa a dormire Chiudi Quindi a mangiare A dormire Ma qua la domenica prossima Alle 20 e 20 20 e 25 Alle 22 Alle 25 La domenica sportiva Lo scudetto Torna dopo un'eternità Sulle maglie della Juventus E l'Italia Impara a prendere confidenza Con Marcello Lippi Un grande motivatore Che riesce a ottenere spettacolo Coniugando classe e muscoli Nella stagione dei tre punti Le squadre votate all'attacco Regalano ai tifosi Gol strepitosi L'incredibile diagonale Al volo di Onorati Le rovesciate di Vialli O del Piero Che contro la Lazio Inaugura quello che presto diventerà Il suo sigillo di fabbrica Un campionato Caratterizzato da uomini carismatici Vialli rapato a zero È l'immagine della grinta Juve Mazzone Che corre sotto la curva Dopo il derby È l'emblema di chi appena ha ciuffato Un sogno a lungo rincorso Mentre Roberto Mancini Bandiera e monumento della Sampdoria Taglia un traguardo importante La cinquecentesima gara Con la maglia blucerchiata Mentre il campionato italiano Continua a lanciare sul palcoscenico Giovani di grande interesse Sono gli anni in cui la nazionale Under 21 Monopolizza la scena a livello europeo E si capisce anche perché Debuttano Pirlo Protti Toldo Pessotto E Totti segna il primo gol Una stagione segnata comunque da tanti eventi Momenti di paura Per la crisi cardiaca di Pioli Momenti di follia Per l'omicidio di Vincenzo Spagnolo E momenti di enorme tristezza Per la scomparsa di Andrea Fortunato I primi gol da Cineteca di Del Piero Lo spettacolo imprevedibile delle squadre di Zeman La provincia sempre viva E la verve naif di Mazzone Anche per questo Campionato Io ti amo I primi gol da Cineteca di Del Piero I primi gol da Cineteca di Del Piero Io ti amo Grazie per la visione! Grazie a tutti!